Ciao, sono Marietta Zocchi, frequento la laurea magistrale in International Business Management. Perché hai scelto la LIUC? Ho scelto la LIUC perché mi piaceva il tono di studi che venivo offerto e il fatto che comunque come vengono sugestite tutte le attività sia didattiche che stradidattiche. Perché ti sei iscritta al tuo corso di laurea? Mi sei iscritta al mio corso di laurea perché essendo offerto tutto in lingua inglese credo che mi possa dare una buona prima operazione che ritengo indispensabile per affrontare adesso il mondo del lavoro e inoltre perché mi dà la possibilità anche alla fine del secondo anno di ottenere una certificazione linguistica che è il BEC. Come stai vivendo l'esperienza qui in LIUC? Sicuramente mi trovo molto bene e sono molto contenta della scelta che ho fatto perché si hanno opportunità per approfittare del tempo passato qua sia a livello didattico che a stradidattico. Cosa pensi di fare una volta laureata? Sicuramente cercare uno stagio in Italia o all'estero per sfruttare anche il fatto di aver studiato in inglese e utilizzare il servizio placement che è presente nell'università. Dove ti vedi tra cinque anni? Questa è una bella domanda spero appunto di essere in grado di sfruttare quello che ho imparato nei miei cinque anni con la LIUC. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.